E ciao ragazzi, finalmente ce l'ho fatta, allora pronti, prontissimi per questa partita Roma-Fiorentina, benvenuti allo studio SM, ci aspetto una partita di fuoco tra Roma e Fiorentina. Io sono della Roma, ragazzi, ma tifo Juve, la Juve era già stata occupata, quindi mi sono direttato alla Roma per i suoi giocatori fantastici. Questo è il tipo di match che fa emozione, fin dal mattino adoro la bella Roma, sono stati fantastici finora, è della prima partita, ottimo. Sono d'accordo, questo è quello che tutti sapevano, stavano aspettando, il commentatore mi ha confermato che i giocatori stanno entrando in campo. Pronti per la partita, nuova serie, a Gudelo si trova tra la parla fra i piedi e la Fiorentina prova, mamma mia, inizia potente, potente, di nuovo, di nuovo, oh no, annuncia il palo, di nuovo, di nuovo, cartellino giallo per Boateng, ragazzi, doccia anticipata, cartellino rosso, cartellino rosso, mamma mia, Kluivert ci prova, Boateng, di nuovo, ecco, caccia di punizione, piedi di Niktarian, prova, prova, eteno fuori, che partita? All'altro dal gol, ragazzi, di nuovo, Kluivert e Spinazzola, tre, due, ecco la palla, no, di nuovo, di nuovo, no, di nuovo, Spinazzola, tirato alla fine, giallo per Zeko, Zaniolo, frattura, no, no, Zaniolo, Pedro, il corner, Kluivert, 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 Dan, colt, 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 sì, 1-0, 1-0 Roma, sì, 1-0, 1-0, 1-0, mamma mia, trentunesimo, cartellino giallo per l'anniatore della Fiorentina, Niktarian, di nuovo, occasione sprecata, aspettiamo, intanto il tempo passa, fine, primo tempo, si torna allo studio, roba impressionante, cosa ne pensi, R? Roba da farti mancare il respiro, partita epica, fino a questo momento, la gente a casa sta divertendo sicuramente, sì, io qui sto gridando, vabbè, andiamo avanti, voglio vedere la partita, ragazzi, cinquantesimo, cinquantunesimo, si sale ancora, Zeko di nuovo, sessantissimo, allo stoccare di un'ora, mamma mia, 1-0 per la Roma, ma dobbiamo mantenere questo risultato, 12 minuti alla fine, 10, 9, 8, 6, di nuovo, Niktarian, ci riprovo, ha segnato a Zeko, se non mi sbaglio, mi ricordo anche che ha segnato, no, di nuovo, al respiro, il portiere di Genoa, Niktarian, Corner, di nuovo, Pedro, Pedro, attenzione, attenzione, pure lui, pure lui, va bene, anche il portiere dice no, anche a Pedro, oltre che a Zeko, e Kluivert, e Kluivert al novantunesimo, Kluivert, Kluivert, no, di nuovo, è finita, 91, 91, Zeko sta per uscire, fischio finale, allora la Roma vince, ci vediamo al prossimo video, meno come di iscrivervi, campanelline, ci vediamo al prossimo video, ciao, ciao,